E benvenuti a tutti in un nuovo video della SpaceFamily! Oggi è un giorno che volevo ricordare, quindi ho deciso di fare un video Tra l'altro guardate quanto si è sistemato a posto tutto, chissà come mai Dai! Perché ragazzi per la prima volta dopo... Dopo sempre! Dopo sempre! Abbiamo avuto la mattina libera, completamente libera Dalle 8 a l'1 e ancora non è finita Infatti fra poco andremo a prendere Martino perché è ufficiale, Martino è andato al nido! E sta con gli altri bambini ovviamente Diciamo che abbiamo deciso di mandare Martino, iniziare a mandare Martino un po' al nido Per socializzare anche con gli altri bambini perché stava sempre solo con noi Quindi abbiamo detto, gli fa bene a Martino stare anche con altri bambini E stamattina quando l'abbiamo lasciato lì, Martino... Lei era dispiaciuta Martino... Martino ha visto gli altri bambini e ha detto... Tutto felice, mentre la mamma era un po' felice Quindi la casa non è più la stessa Senza mammo L'abbiamo qui, sempre con noi Infatti ho messo il cappellino con scritto... Quindi noi fra una mezz'oretta andremo a prendere Martino Al suo primo giorno di nido, sembra il primo giorno di scuola Eh sì, vabbè, quasi Ci hanno mandato le foto, sta bene Mangerà anche la prima pappa E comunque andrà, diciamo, solo lunedì la mattina E poi pomeriggio e lunedì abbiamo un'altra novità Esatto, che andremo a farla oggi Quindi andremo a farla oggi anche in questo video Quindi oggi, sì, oggi Primo giorno di scuola di Martino E prima piscina Piscina, perché, grandi novità Martino, il nuotatore, è stato iscritto in piscina Perché è un peso mammo Quindi la mamma e mammo oggi andranno in piscina In piscina E io li spierò Cioè li spieremo insieme Sì, sperando che ci potete vedere No, penso di sì Sì Dunque dopo vi facciamo vedere tutto quello che abbiamo preso per la piscina Bellissimo, costumi Abbiamo preso un costume per lei da incinta Tra l'altro gli è cresciuta la pancia in un secondo Sì, infatti Non so come è possibile Guardate, ragazzi Non aveva questa pancia fino a ieri Non avevo questa pancia Non aveva proprio questa pancia No No Poi ci sono altre novità, però Quale? Non spoilerò Perché sono mi uccidi Ah, no, non la spoileriamo Non la spoilerò, però Partiamo Partiamo Per un viaggio Un'altra volta Ma Ve lo diremo nei prossimi video Perché io vedrò una cosa che amo fin da bambina Esatto Ed è il mio sogno E vale, mi ti parte Quanti sogni mi stai realizzando? Eh, tanti Troppi sogni Troppi sogni Poi si abitua troppo bene Comunque Provate a indovinare dove andremo Scrivete qua sotto nei commenti È tosta Ma Non so se ce la fanno a indovinare Prima di continuare Volevo dirvi anche un'altra cosa Aspetta che entro un po' Che c'è il sole che mi abbaia Ecco Mi abbaia Ragazzi Un'altra cosa Prima di continuare Il video in cui dormiamo È andato molto bene È piaciuto Ed è arrivato a 20.000 like È arrivato a 20.000 like Sì, praticamente Io vi amo Quindi ragazzi Grazie di cuore Perché così è costretto A fare un altro video E se arriverà a 30.000 faremo il nostro Perché a 20.000 abbiamo detto Martino Quindi ci sarà il video Della notte di mamma Quindi in questi giorni Registerà In questi giorni Registreremo il video Della notte di mamma Chissà che non è oggi E poi uscirà Non lo so Vediamo Comunque lo registriamo in questi giorni Quindi tenetevi sempre connessi Con la space family Se non siete iscritti Iscrivetevi Lasciate un mi piace Condividete ai vostri amici Per fare diventare space familiani E adesso Mi calmo un attimo E vi faccio vedere La casa vuota senza mamma Facciamo una musichetta triste Di sottofondo Mamo se n'è andato E non ritorna più Così No 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 Amore Inizia a pesare un po' No mamma no No mamma no No Ecco Questa è la casa senza mamma Il tuo odore Il tuo odore Il tuo odore di mamma Sì Ora vi faccio vedere La cucina senza mamma Cucina In cucina In cucina senza mamma Ma c'è Ralu Cosa? Al posto di esserci mamma C'è Ralu Al posto di mamma C'è Ralu Esatto Abbiamo adottato Ralu Ci sentiamo soli C'è troppo silenzio Con noi due Ah no però c'è mamma Guarda Ecco Eccolo Vedi che c'è C'è mamma Ecco a noi Ciao mami Proviamo a camminare Spero che non arrivino Gli assistenti sociali Ci manca un po' Il pesce mamma E volevo farvi vedere Qualche altra cosa Prima di andarlo a prendere Ecco Vedi mamma Ha chiuso questo Ieri il signor Valentino Bisegna Nonché alias padre Migliore del mondo Che sono io Ha montato Questa cosa Bellissima In vista Oddio In vista della primavera Estate Che sta arrivando Il bel tempo Stiamo iniziando A sistemare Un po' Questa zona Quanti voi vogliono I video In giardino Come abbiamo sempre fatto Scrivetecelo qui sotto Perché io voglio montare Una spame che è in casa E Vale Non lo sa Vieni qui Mamma Mamma C'è mamma È arrivato mamma 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 Chissà cosa sta facendo Mamma Adesso Vi faccio vedere le foto Che mi hanno mandato Mi hanno mandato Mi hanno mandato Le maestre di Mamma Aspetta Ve le faccio vedere Eccolo Mi hanno mandato le foto Di Mamma Che gioca con le palline Che gioca col cerchiolino Dai mi sembra stia bene Mamma Mamma Il suo primo giorno di nido Mamma Adesso ti veniamo a prendere Arriviamo mamma Ok è arrivato il momento Che andiamo a prendere mamma Sono le 12.50 È l'una 12.50 E Martino Esce dal nido Menta la cintura Eh sì Mi metto la cintura Grazie Forte Andiamo Andiamo a prendere mamma Andiamo a prendere mamma Andiamo a prendere mamma Tra l'altro racconta di stamattina È sembrato proprio Veramente Che l'accompagnassimo Al suo primo giorno di scuola Allora Questa mattina Lui non si sveglia mai Ok Dopo di noi Questa mattina Si è svegliato Tardi Cioè abbiamo dovuto Noi svegliarlo Per andare al nido E non si svegliava Gli facevo Mamma Svegliati Svegliati Gli ho messo i calzini L'ho preso L'ho rigirato L'ho scosto Stava nel letto E faceva così Proprio come un bambino grande Sembrava di cessionola Non voglio andare a scuola Si stirava e poi E si rimetteva a dormire Ho detto No mamma proprio oggi E quindi ho cercato L'aiuto del papà Per svegliarlo E infatti la voce del papà Un po' l'ha svegliato E niente Mamma mia raga Come reagirà? Oggi giornata per mamma O giornata importante? Oggi giornata tosta per mamma Oggi è stato all'asilo Tutto il tempo E sembra sia andato benissimo Perché ci hanno inviato le foto E tutto Esatto Anche il video Ci hanno inviato Rideva Un bambino super sucevole Un amore Troppo bravo E oggi Torniamo a casa adesso Tranquilli Vi facciamo vedere la roba Della piscina Che abbiamo comprato ieri E andiamo A fare piscina Ogni è una bambina Andare sola Comunque E tu dovrai Andare in piscina La panzona Oh amore Non mi chiamare panzona Panzona con mamma All'altro video mi ha chiamato Mucca Gravida Gravida Ma che è sta roba? Ma già detta così È bruttissima Ma non è vero amore Sì Andiamo A prendere mano Il mio bricchetto Comunque A quanti di voi piacciono i bricchetti? Io li amo Vale L'ho Cioè L'ho proprio plasmato Per comprare i bricchetti Prima non li comprava No Prima Diciamo che Io prima di stare con te Non sapevo che si chiamassero bricchetti Li chiamavo quei cosi lì Con la cannuccia Con cui si beve l'estate Amore Così li chiamavo Comunque dovete sapere Che il mio amore Mi copia in tutto quello che faccio Cioè nel senso Io voglio il tè Lui si beve il tè Io mi mangio una cosa Lui si mangia una cosa Perché sta diventando Un tuttuno con me Questa Questa è una sua pipa mentale No amore Non è vero Non è vero Non è vero Ma no C'ero lì davanti Lo bevo anch'io Tu ti fai tutto il piano È un bugiardo Ma scusate Ma no Segui il mio ragionamento Allora Davanti a voi avete Un hot dog Ok Prima non c'era questo dog Arriva davanti a voi L'hot dog Che fate Non lo volete mangiare Ma no Ma pure Cioè io adesso Non ho niente Io mi metto una maglietta Sua mi fa Mi hai presa questa maglietta La voglio anch'io Ma infatti guarda cosa ha sotto Ma infatti La maglietta di ieri La maglietta che ti sei messa ieri Dio quanto ti amo Dai andiamo a prendere Comunque Volevo dire Per la meta Chi ci segue su Instagram Vale Ha postato nelle storie La meta Ed è Non è che dici Vabbè È fra un mese No È fra meno di 15 Di 14 giorni Quindi dobbiamo ancora preparare Tutte le valigie Tutto amo E poi Non sarà proprio solo quella La meta Perché poi da lì Andremo a un'altra parte Che praticamente amore Come glielo vuoi dire È una parte Che a me E a lui Sta molto a cuore Perché abbiamo seguito Andiamo in un posto Non sa senso Andiamo a dire il posto dov'è No 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 Facciamo spoiler Ok 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 Neanche il secondo No Andiamo a prendere Mamo Basca Andiamo a prendere Mamo Mi sei mancato Mamo Si è tolta l'anello No oddio è vero No me lo devo rimettere Si è tolta l'anello No 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 Me lo devo rimettere Si è tolta l'anello More Webbo More me lo devo rimettere Sarà di stucco Dai Perché si è tolta l'anello Crisi tra di loro Una coppia finita Moschi Stiamo arrivando Mamo Moschi È un pesio Mamo Oggi diventerà un pesio Mamo Oggi sarà proprio pesio Mamo Perché non è in piscina Proprio pesio Mamo È vero Oggi sarà il pesio Mamo In persona Non è pesio Mamo È pesio Mamo Con due S Ma io non ho le due S È pesio Mamo Pesso Mamo Pesso Mamo Arriviamo pesio Mamo Bricchetto Siete team pesca o limone? Madonna Siete team Bricchetto O team Quel cosola con la cannuccia? Eccolo Sta per arrivare Sta per Sta per scendere Da questa casa Stiamo giù 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 Scendi giù Sembra che fai Le vocine di Di quei cartoni Giapponei Giapponei Dai Mamo Scendi Scendi Mamo Eccolo 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 Mami Mamo Ciao Mami Ciao Mami Ciao Mami E' stato con i bimbi Stiamo tornando a casa Con il nostro parco E domani farà invece Solo il lunedì fa dalle 8 di mattina fino a luna E invece da domani inizierà tutta la settimana A parte il sabato e la domenica Dalle 3 e mezza fino alle 5 e mezza 6 Oddio Cresce Questo mi fa Ecco questo Mi fa capire che sta crescendo Il fatto di averlo portato al nido Mi fa capire proprio che sta crescendo Mamo Ma ne arriva un altro adesso Tutto da capo Dai inizio Le dì ne arriva un altro Amore sei contento? Sì tutto da l'inizio Non l'hai detto così tanto e voglio Ma sì ma poi giochera con Mamo Andranno insieme al nido Andranno insieme a scuola Il papà a scuola Sì anch'io voglio riscrivermi agli elementari Vai con Mamo Sì 7 per 8 48 Mamma mia Quanto fa ragazzi 7 per 8? Avete 3 secondi per rispondere 1, 2, 3 Quanto fa? Bravi a tutti Bravi a tutti Dai la mia figuraccia l'ho fatta Bene Andiamo a casa Ok sono in camera Martino sta dormendo Si è addormentato subito Appena siamo tornati a casa Noi abbiamo pranzato E adesso a breve Stavo guardando l'oraggio che non ho A breve dobbiamo andare in piscina Per la prima volta Per Mamo Quindi Come prima cosa Devo preparare la valigia Ok ci stiamo Allora Questa è la valigia Guardate che bella Dell'Adidas rosa Ovviamente rosa Quasi sono i ciucci Questa Era pronta per il nido di Mamo Ok Dori Dovete sapere che La maestra di Martino Si chiama Dori E quindi gli abbiamo messo anche un libricino Di Dori Abbiamo comprato Due asciugamani Uno S e uno L Questo è di Vivale E questo è il mio Io direi di portarmelo Già Aperto Dentro comunque è tutta rosa Poi Queste due ciabatte Sono di Vale Quando andrà lui con Martino Questa è la cuffia di Vale Guardatela È troppo buffo Quando se la mette Andiamo ad inserire La cuffia di Martino Spero gli vada bene In caso mi porto anche questa Di Vale Perché mamma Ho un po' il testone Questa è la mia Ma io ne ho un'altra Ho anche questa Che questa qui diciamo È per i capelli più folti Quindi dato che io ne ho tanti Forse sarà meglio questa Ma ne porto entrambe I pannolini Swim Ma questi li ho presi dalla Decathlon E però abbiamo anche quegli altri Che sono Il disegnino di Nemo E quindi Credo che metterò gli altri Non questi che abbiamo comprato La Decathlon Perché quegli altri Hanno il disegnino di Nemo E Dory Ma cos'è? Troppi Nemo Comunque Metterò quegli altri Perché sono gli Huggies Queste sono le mie ciabatte Lo so sono brutte Ma Sono quelle che ho trovato Quindi vabbè Anche queste rosa Andiamo ad inserirle All'interno Passiamo al pezzo forte L'ascicomanino Di Mamo Guardate che bello Che è Guardatelo Oddio Quanto è bellino Ed è bellissimo Perché è bellissimo Appunto Cioè È meraviglioso L'asciugamano di Mamo Questo qui è il costume Di Mamo Sopra i pannolini Questi qua Che sono i swim Guardate che bello Con l'astronave Con il Saturn Come volevamo Non prenderlo Ovviamente Questo qui È fatto apposta Per Mamo Cioè Questo qui però Io lo devo mettere Magari glielo metto Già adesso Questo Ho preso questo costume Che è per le donne Incinta Sì Ma in caso Non mi stesse bene Ho preso Anche questo Sempre per le donne Incinta E niente Queste sono le cose Che abbiamo comprato Adesso le metterò Dentro la borsa Io credo Che mi metto Già questo sotto Così almeno Mi avvantaggio un pochino E niente Ci vediamo Appena si sveglia Mamo Io vado a provarmi Questi due Ed eccoci qua La mamma Si sta preparando Se hai provato La cuffia Il suo outfit Che brutta La cuffia No Stai bene È bellissima Pure in questo stato Sei bellissima La cuffia È bella la cuffia Guarda A te ti sta bene Quando lo porterò io Martino Vedrete a me Con la cuffia Ragazzi Come se lo metto Un mostro Ti sta benissimo Poi ragazzi Allora Noi stiamo Per andare Volevamo farvi vedere Abbiamo preso Il costumino Per Mamo Guardate Proprio Della Space Family Con Saturn Ah Gli hai già fatto vedere tutto Non sapevo Se l'avevi già registrato Hai già fatto vedere tutto Tutto Allora Che parlo a fare Ma che ne so Ma che ne so Ma che ne so Bene ragazzi Ci vediamo l'ora In piscina Giambatte Proprio Giambatte carine Devi prendere il cambio a mano Speriamo che Speriamo che ti fanno star Ma si che mi fanno star In qualche modo ragazzi Spero di riuscire a filmarvi qualcosina Io ci provo Poi Buongiorno Buongiorno Piscolino Dobbiamo andare a nuoto Piscolino Eh bimbo grande Dobbiamo andare a nuoto Bimbo grande Dobbiamo andare a nuoto Svegliati Giù dalle brande Giù dalle brande Non è mai successa Tutta sta roba No Martino che Non vuole alzarsi dal letto Ma è successa Buongiorno Buongiorno Andiamo a nuoto Andiamo a nuoto Andiamo a nuoto Andiamo a nuotare Come dei pesciolini Eh Testolone Questo è il pannolino Per fare Per fare nuoto Guardalo Guarda le mani Addio E' lui L'ha fatto lui Mi date le manine Ditta e nuota Nuota e nuota Ditta e nuota Ti piace mamma Il tuo nuovo Pannolino E' Nemo E' Nemo Ma c'è anche Dori Eh sì Sei pronto? Mamma Sei pronto? Sei pronto per la piscina? Au Ciao 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 ragazzi Ciao Ciao papà Buona piscina Ciao 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 Saluta papà Ciao 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 amore Vai da là Sì 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 E guarda da là Ma U규 Sì 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 miro Sì 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 Siamo tornati ufficialmente Nella nostra space house Ok Ora vi mostro subito Martino il post piscina In fondo al mar In fondo al mar Ecco Martino Ecco Martino Ecco Martino Pescio mammo Pescio mammo Lo 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 Questa è lei davanti Lo Bene ragazzi Oggi è stata una giornata ricca di cose Di tante cose per Martino Per noi Com'è andata amore Mi hai detto che è andata bene È andata bene È stato bravo Bellissimo È stato bravissimo Gli hanno dato un 10 Lode Sì Ovunque Guarda di tutto il tempo Il pesce lì nella balena Dai Amore E' andata Ma smetti Ma smetti Non è vero Mamma mia Ma qui Ha le scarpe Guardate Li devo mettere con le punte Comunque Comunque Oggi Forse Registriamo Questa sera Martino che dorme Forse Quindi No Non l'avevi promesso 20.000 like È vero Il video è arrivato a 20.000 like Dai Manteniamo Manteniamo le promesse Quindi stasera Se Se Tutto va bene No non è se Amore Si per forza Stasera Registriamo La notte Di Martino Quindi un super like Un super commento Che ho scritto Bravo mammo Pesciolino Dormiglione Un commento lunghissimo E la vedrete presto Quindi qui sul canale Della Space Family Ragazzi Grazie di essere stati In compagnia Nella nostra compagnia Speriamo che vi sia piaciuto E vi benedico Nel nome del padre Del figlio Pesciolino 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 Nel nome del mammo Del papo Della magma E della palena Dai Ciao Ciao